Li chiamano i quattro frugali. Stiamo parlando di Austria, Paesi Bassi, Svezia e Danimarca. I quattro maggiori contribuenti netti procapite al bilancio europeo. Nella battaglia in corso sul bilancio europeo in vista di uno speciale vertice a Bruxelles giovedì, sono loro a insistere sul fatto che i futuri contributi degli Stati membri dovrebbero rimanere stabili all'1% del loro prodotto interno lordo. In altre parole, ogni paese dovrebbe continuare a versare alle casse di Bruxelles la stessa quantità di denaro. A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, i paesi cosiddetti frugali non vogliono chiedere più denaro ai loro contribuenti e preferiscono stringere la cintura. Inoltre, insistono nel voler mantenere una sorta di programma di rimborso per i principali contribuenti netti. Questa misura è una condizione preliminare assoluta per l'Austria che dovrebbe compensare il divario tra il nostro contributo finanziario e il rendimento più basso. L'Austria è diventata il terzo maggior contributore netto. Dobbiamo cercare di ridurre questo divario ed è per questo che chiediamo un sostanziale sconto per l'Austria. Ma i paesi frugali hanno un alleato tradizionale, la Germania, l'economia più influente dell'Unione Europea. Ma questa volta Berlino ha adottato una posizione più morbida rispetto ai suoi alleati. Il governo della Merkel ha indicato che potrebbe essere disposto a pagare di più dell'1% se e solo se il nuovo piano di bilancio si concentrerà maggiormente su politiche moderne come l'economia digitale e il cambiamento climatico. Un maggior contributo ma con diversi obiettivi. Se non procediamo con maggiori finanziamenti non saremo in grado di affrontare nuove sfide. Dobbiamo effettuare tagli nei campi tradizionali come la politica di coesione e la politica agricola. Dobbiamo decidere se vogliamo un bilancio che guardi al futuro, vogliamo un bilancio che continui a fare quello che sempre ha fatto. Tuttavia resta da vedere quanto sia disposta a pagare in più la Germania. La sua tesi sembra avere un effetto destabilizzante tra i paesi frugali. Recentemente il governo austriaco che vede in coalizione i Verdi e i Conservatori ha segnalato una certa flessibilità.